Una sirena appena sentita, un break di qualche minuto, poi ci si rimette al lavoro per altri 30 minuti, insomma che cosa sta succedendo qua dentro, che cosa accade per 4 giorni in questa mega area allestita? Sta succedendo che chi produce macchine e dispositivi Aisobas si trova qua per vedere se si sposano con quelli degli altri costruttori, quindi c'è questa sorta di speed dating di elettronica per macchine agricole che implementa lo standard Aisobas, provano a incontrarsi, provano a vedere se vanno d'accordo e poi magari diventa un matrimonio e funzionano bene un po' per tutti, anche per l'agricoltore che poi acquista le macchine con quei dispositivi da usare in campo. Il Plugfest è iniziato proprio agli inizi del 2000, è via via un successo sempre più che si tocca con mano? È la necessità di oggi, la necessità è di poter scambiare dati, l'agricoltura ormai è fatta di dati ancora prima che di prodotti agricoli e Aisobas è stata sicuramente una delle basi di partenza e continua ad essere una delle basi fondamentali, sono le macchine che lavorano in campo e raccolgono le prime informazioni e poi chiaramente possiamo avere software, cloud, piattaforme, sistemi di supporto a decisione ma le macchine in ogni caso devono parlare tra di loro per effettuare le operazioni nella maniera più efficiente possibile. Qui la parola d'ordine è comunque collaborazione anche tra chi magari poi da domani in poi entra in competitività, in competizione. Gli ingegneri non competono tra di loro se non per vedere chi è più bravo a scrivere del codice o a progettare dell'hardware. Qua c'è tanta collaborazione perché l'obiettivo è quello di consentire all'agricoltore di lavorare. Se l'agricoltore non lavora noi non mangiamo, quindi fa bene a tutti che i loro sistemi funzionino correttamente. Aisobas oltretutto abilita tutta una serie di funzioni che oggi ormai sono richieste anche dalle varie regolamentazioni, quindi controllo dei pesticidi, controllo delle sostanze chimiche, aumento della produttività eccetera. Quindi qua tutti perseguono un obiettivo comune. A me piace sempre dire che Aisobas è comunque uno standard, quindi tutti lo devono implementare e funzionare per tutti la stessa maniera. Quello che è il know-how delle singole aziende sta dietro. Tutto questo naturalmente in previsione di EIMA, tra l'altro AF ha organizzato e organizzerà due o tre eventi significativi. Allora, noi abbiamo ovviamente l'area digitale che ormai sta diventando uno dei fulcri di EIMA e anche casa mia perché sono un po' il coordinatore di questa area, soprattutto per la parte formativa e di partecipazione di varie associazioni, tra le quali AF, che avrà anche tre importanti convegni. Uno in realtà come in un panel dove si parlerà di robotica agricola e altri due invece dedicati proprio alle varie attività e funzionalità che AF sta sviluppando. Non dico di più perché poi chi vuole viene lì e impara qualcosa. L'appuntamento di EIMA, ricordiamolo? 6-10 novembre 2024 a Bologna e chi vuole mi trova lì in area digitale.